Abruzzo a te ti porta tanto bene, 19 gol, capo cannonieri in contrastato e il Brescia che va alla grande. Sì, abbiamo fatto una gran partita stasera, su un campo difficile contro una squadra forte, siamo stati bravi ad avere un approccio importante e la squadra veramente ha fatto una cosa straordinaria stasera. Una rivincita per te qui a Pescara, dai, sei sincero, lo so. No, io su queste cose non sono uno che ci pensa, io penso a lavorare e penso a fare il mio, quindi sono contento di quello che sto facendo e mi auguro di continuare così e di dare una mano alla squadra. Passato un po' di tempo, ma vogliamo ricordare cosa accadde in quell'estate quando sembrava che Donnarumma doveva rimanere a Pescara e poi invece sei andato via, avevi stasera un po' il dente avvelenato? No, ti ripeto, è stata una cosa talmente breve che non mi sento di dire che avevo il dente avvelenato, io il dente avvelenato ce l'ho sempre, contro tutte le squadre e da qui fino alla fine ce lavoro con tutte, quindi non mi va di parlare con il dente avvelenato, anche perché Pescara è una città che mi piace tanto, quando sono stato a termine... Ma c'eri rimasto male qualche anno fa? No, vabbè, quando non ti danno la possibilità ci rimane sempre male, è normale, però è passata subito e quindi non mi va di pensare a quel momento negativo. Dobbiamo salutare Donnarumma, ma una battuta flash gliela facciamo, prima abbiamo sentito Marcello Di Giuseppe prima della partita, gli abbiamo chiesto un domani ti sogni di vedere Donnarumma alla padula insieme in Serie A, ha fatto un bel sorriso, tu che ci dici? Gianluca abbiamo avuto dei momenti bellissimi... Ma si può fare? Io penso che nel calcio tutto è possibile, sarebbe bello perché con Gianluca abbiamo passato tanti momenti belli e abbiamo un rapporto bello, quindi sarei contento se un giorno potessimo giocare insieme. Ciao, grazie a Donnarumma.